dovremmo essere ci dovremmo poi attendo conferme un momento devo mettere in positiva non capisco se è la sensibilità troppo bassa nel microfono o se laghi ogni tanto voglio partire con la daily visto che non ho fatta e tu mai detto che ecco magdalena e quindi facciamoci la daily prima ricasse così moriamo subito vediamo che oggetto c'è spero un kerat va benissimo sappiamo dove sono le stanze segrete ma non abbiamo un cazzo di bombe perfetto niente mezzo cuore blu è la prima volta che lo vedo droppare in vita mia mezzo cuore blu si è uno dei nuovi achievement ho sbloccato qualcosa che mi dà mezzo cuore blu ogni tanto hai rerollato sette volte a quindi se uno rerolla sette volte all'immensa fortuna di ricevere questa cacata se devi prendere un petto mezzo cuore blu ti salva eh ah beh si eh non vedevo l'ora è proprio quello che mi mancavo mamma mia la fatica di combattere sto boss intanto l'ho già perso il mezzo cuore blu quindi ah no io sono comunque 15 secondi in ritardo qui ho preso abbastanza danni già tutti insieme poi cioè non ne ho presi fino adesso dai muori per il tuo stesso veleno ok dammi dei cuori bravissimo e mo siamo nella merda zero consumabili burning basement non mi vedo agile ma vaffanculo ma che dalle alcool la bombola di se stessa si buongiorno caffè ciao no ragazzi sono scesi tutti con te siamo fastidiose no benissimo sì no 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 dark bomb è che sarà in live sì insomma poche bestemmi tutto lì ah nonostante siamo in birra rica ma hai detto poche non hai detto destilla e sto tentando di fare la daily eh io adesso ho appena finito il suo livello allora il radio di fuoco aumentato mi piace anche però una bomba o anche del danno non sarebbe malissimo eh poi qua mi tocca scoppiare tutto perché se rilasciano cuori niente oh only chiavi for noi va benissimo dai mostro campione quello che non salta solo molto lento da combattere non difficile una run al primo piano double travel con doppio rosso doppio mostro vabbè c'ha pochissima HP il doppio mostro rosso il problema però lenta come la merda ah e allora beh non che Magdalene parta proprio con la velocità della vita eh avevo 0,69 69 tanta roba sempre quello si no devi correre allora qui abbiamo un oggetto di gappi gatti e il danno beh il danno sicuro l'oggetto di gappi non sto convintissimo dovrei solo fino al cuore no non lo prendo giù per il tubo batteria attualmente inutile non hai guardato le pillole beh figurati se in una daily guardo le pillole sei impazzita in una daily non si usano mai le pillole a meno che non sai già che cosa fanno se no perché hai visto una run prima di te prima di farla te ma allora si se no scordatelo proprio come vedi ho una pillola da un po' e sta bene lì cioè a meno che non mi trovo proprio a mezzo cuore che dici vabbè cioè non mi può succedere niente perché non posso morire con le pillole allora ok ma se no beh ma come fai a sapere quella che tieni che quella che tieni non è bad trip se non la provi eh bad trip non mi può comunque uccidere non lo uccide al massimo mi togli un canister cioè no bad trip diventa un full health se sto a mezzo cuore quindi ehm se è il down mi toglie un canister vuoto quindi questo oggetto non mi ricordo che fa lo prendo è una sorta di boh non lo so un dente bianco non mi ricordo no vederlo lo vedo il punto è che non me lo ricordo cazzo ma non l'hai fatta la run l'ho trovato no non l'ho fatta la daily quando prende danno ha una piccola chance di guadagnare un più 5 di range e lascia un trail di sangue ok inutile un range ne ho e non è quello che mi serve quindi cosa possiamo fare ho preso che ti mostro le secret spero un karat ah giusto qua no cerchiamo di eh ok uno dovrebbe saltare tutte e due perfetto ok stanza virtualmente finita uff oh e basta ste pilole di merda ok defrail versione classica ok 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 Anche questo si può fare Se mi lasci un cuore mi fai un favore Ok Che cos'è la pillola rossa Sembra un Un Dio Quello che ti fa rifare il piano Adesso mi viene in mente Che cosa fa di bello Qualcuno lo sa Cioè non ho capito Perché dovrebbe uccidermi E poi ti uccide Uccide 3 dopo 3 secondi E a singolo uso Eh per forza sei morto Non vedo come I nemici sono in quella stanza Ipoteticamente parlando Ma il boss no Mi uccide A uscire dalla stanza Entro 3 secondi Ah ma non Ah ti uccide solo se rimani nella stanza Non c'è scritto Eh allora Potrebbe essere una stronzata epica Quello che ho detto si Allora Devo arrivare fino al cuore Eh vabbè Ok So che è molto situazionale Però la bibbia È sempre la bibbia Prendi 3 3 3 libri Prendo 3 libri Sì potrei in teoria Per la nuova trasformazione Dici Che tanto la devo sbloccare Appunto Ma non so se da un achievement Non so se è parte Del completismo Fare No non ti da l'achievement Però è figo Dove ti ha La trasformazione E ogni tanto ti da 20-20 Ah sì Allora sì Sì Aspetta Sì Quella dei libri Sì In italiano sarebbe Troppo da biblioteca E a questo punto Prendendo questo Almeno mi da un cuore No Mi sa che uno dei libri Che ho preso Non vale per la trasformazione Te lo dico Bookworm Eh sì È vero Ho un 20-20 sporadico Fica Giustamente perché Avrebbe gli occhiali Perché è un topo di biblioteca Quindi E l'altro E il cannocchiale Ma non ti ha preso Uno dei libri Cosa è? Eh uno dei libri Evidentemente non conta Per quella trasformazione Giustamente Avendo usato Book of Revelation Abbiamo Un simpatico Ah perché la bibbia La conversera Fino non so Sì Sì Anche No In genere puoi usare Book of the Leal Head of Anarchist Revelation Si Set Autojump Panic people Telepathy Pable E il Necronimon Necronomico Quello Dovrebbero funzionare Tutti Manca la bibbia Sì Manca la bibbia Non so perché Non me l'ha contato Ok Adesso il danno C'è Prendi Prendi No quella figa A me sembra L'ultima che hanno aggiunto Che non fa cazzo Ah ok Ma c'è quella dei ragni Che No no la terza Che dicevo Quella che non era Stata spoilerata Questa è una run Senza bombe So se ve ne siete resi conto Quindi ora Erano tutte Nelle secret Eh ma come c'entra Nella secret Beh un modo si trova Tipo vai in uno shop E compri una bomba Arrivi Penso che arrivi Su questo piano Sì appunto Si è appena arrivato A fare cinque monete Questo è un piano doppio E ho già trovato i boss Sono le item Le item room Si che ci so Simpatico ragno Ok Ci sono ci sono Potrei averlo lasciato Al piano prima Quello si Eh si le hai lasciate prima No non tutte Prima c'era Spelunkerat Però Piano prima Dico Ah si si Possibilissimo Eh che palle Credo Si guarda O c'era un oggetto Di merda O Cosa che non credo O effettivamente Non ci sono dato Qui item room Non ci sono A parte questo In piano doppio Sarà gigantesco In piano doppio Ce ne sono due Si però Il piano Di per sé È gigantesco Sono quasi Full vita Che dobbiamo fare Non mi sembra Una ram particolarmente Difficile Detto questo Morirò Quindi hai già anche mamma Si E c'è anche La bibbia Quindi faccio Anche la boss Lasciate Il problema è che Volevo prima Prendere Un oggetto Almeno uno Quindi sono tutte Di qua O non ci sono Decidete Oh penso puoi aprire Le secret Hai due bombe Si lo so Lo so Tre con quella per terra Che vabbè Tu non l'hai ancora visto Quanto veloce Ok Un po' troppo veloce Quattro Quattro cose Bombe Si Volendo Bombo Assolutamente Nope Perché no È carinissimo Perché I soldi Aumentano score Ah già Che è una daily E oltretutto Prendendo Bombo Uh Bello Purity Che mi ha messo A due E il radio Di fuoco Una bomba Guarda Entro qua Giusto per E giustamente C'è Grid Però mi va bene Perché nella daily Grid Porta soldi Ok Possiamo andare A combattere I boss E' un monstro Cerchiamo di andare A vedere Almeno Una Ah Ah vedi Qui ti dava Bombeg Lì come cazzo Si chiama Uh Pesante Doppio Deont Non l'hai preso Come mai Perché abbassa Il punteggio HP up Volentieri Doppio Non lo prendo Non lo prendo Collare di gappi E' un botto di cuori più che non mi servono a niente Boss rush che ci dai Danno Sacrificio al dagger Assolutamente The soul Perché prendo danno Ma mi rida un cuore Ma cazzo Perché non hai preso Il collare di gappi Perché Tanto non divento più gappi Ho deciso Dovevo prendere Anche il primo oggetto Se volevo diventare gappi E Dio Nell'ottica Mamma Esclusa Nell'ottica Ash Dovevo prenderlo Perché dovevo diventare gappi Probabilmente Per farlo Ah no Aspetta no Si ferma il cuore No Quindi non compare Ash Cazzo E' vero che fa 4 cariche Non 2 Quella viola Adesso ne ho metto qua Ce la facciamo Ma non prende tutti Sti danni Cioè The souls Ogni tanto Potrebbe anche Fare qualcosa Mi sono completamente Fottuto Il purity Così Così Vabbè Se può Fa Se può Fa 5 minuti Yes Ok Sai che hai preso che ti ha abbassato così tanto il Purity Il rateo No no che te l'ha rialzato nuovamente Eh se prendi danno perdi il bonus di purity Ah ecco Ok Hai visto lì il cuore Mezzo rosso Mezzo blu No Non ci ho fatto caso E uno non ha la stanza comunque Eh se non l'ho preso per sbaglio Ci guardo Guarda o non l'hai preso Ah è vero Carino Se c'hai un canister rosso vuoto Te ne dà uno rosso Se invece i cuori rossi sono pieni Uno da blu Ah già che Little Horn vola Non ce l'ho pensato a sta cosa Vieni Little Horn Dove sei? Ti sei suicidato Ma del solito sei Andranno poi ci sono sti boss Che c'hanno 8 miliardi 600 mila HP Normale no? Compari Dove sei? Tu mi sa che sei quello che spone E basta vero? Brownie nero Brownie nero Brownie nero Facciamo fuori prima sto rompi coglioni Però non è nero 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 È più No no è nero È nero però sta spawnando quelli bianchi Sì Non mi chiedete perché? Perché non vuoi sabbia Io ho sfigata che si baccavolo coi vermi neri Provi vermi blu Sì quel che è blu neri Oh santo padre Dov'è? È qua Che no? Uffa Dai Dai Mamma mia Sei veramente un dito al culo E poi il campione così non fa altro che caricare Ma no vabbè Sono meglio io Sono riuscito a rallentare un colpo e andarci sopra Oh Affiniamo di prendere danni Oh 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 Devo far fuori prima l'angelo perché se no Ok Mascof infami Oh no no Tu 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 no Ho preso abbastanza danni Per ritenermi un coglione Va benissimo Infami Mi dispiace un sacco ma Sei stupido Non ci posso fare niente Chi è? Ah Pippa Ma è infami Non vuole? No Sembra Prende danno anche dalle spine Info Non alunni Anche gli angeli prendono danni dalle spine Sì esatto E volano Ma in realtà non volano Gli angeli Eh Che ti devo dire Così Aspetta tu potresti aiutarmi Fermo 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 Forse no Però no niente Scherzavo Volevo che mi aiutavi a uccidere l'angelo Invece al contrario L'angelo che mi ha aiutato a uccidere L'ovulo No te lo lascio fare il brimstone dai Ah non lo fai Ok Scherzato Sei la versione che non lo fa Eh sì è quello nero Eh non mi ricordavo che non facessi neanche brimstone Ora mi tocca ucciderti Sappilo Mettilo in conto Sei fastidioso però Sto mette troppo a fa sta boss rush Lo che abbiamo visto l'ultima volta è il finale vero Quelle ranche facciamo cosa sono i suoi deliri mentre sta morendo? Eh in realtà Sono tutti filali veri Ma quello che abbiamo visto l'ultima volta è il finale vero Cioè è quello che gli succede veramente Appunto E quello è ciò che succede realmente Lo che noi facciamo nelle run Cos'è? Un Il suo delirio? Ma no perché lui in realtà è morto Quindi potrebbero essere sogni Potrebbe essere tanta roba Già che non volo più Come non voli più? Eh no perché volavo solo per quel piano Cioè solo per quella stanza Ah Che bello con la getta Yeee No Eh sono un coglione Va bene Ok Non hai preso No ho preso danno No vabbè quello non cambia niente Tanto non devo arrivare da nessuna parte È solo un oggetto in meno Che mi conta Come oggetto in meno preso Il bonus di Purity funziona piano? No funziona a stanze Ed è randomico È randomico tra Quattro effetti Danno Rate of fire Oh Cristo Foro colombo Proprio loro Che cosa? Eh quando vedrai il boss capirai Ah carini Uno è morto E l'altro si è incazzato Utile e l'altro si incazza Dopo che toglie un terzo della vita uno O la metà Non lo so Ah coltello No Vabbè ma in realtà Uuuu Cazzo Non mi ricordo se funziona una Non mi ricordo se funziona You need to go deeper Per scendere ancora Dopo il cuore Io lo prendo Me ne frego Il pentacolo lì? No La gramma? No Non ci abbuffiamo di oggetti inutili Il danno c'è dai Sette Sette Spicco è sufficiente Però la bibbia può shottare la mamma Eh vabbè Il cuore Vabbè Il cuore non è così difficile Sì vabbè Il cuore mamma È sempre mamma Sempre mamma è Non è poi così difficile il cuore Soprattutto se c'hai le penetrative È facile morire nella vostra Mille volte Ho un'istanza di merda No ultimamente le mie ranzi Fermano lì alla vostra Eh si vede che non c'hai Abbastanza danno per la vostra Ci arrivo con 6 o 7 Oh strano E allora non c'hai lacrime penetrative O non c'hai un rate of fire decente Ce ne possono essere tanti di motivi Il principale è prendo danni a cazzo Sì no ma quello è È un difetto Cioè questo gioco si basa abbastanza Su non prendere danni Se uno non prende danni In teoria è mortale Così mi ha raccontato Le prime volte che ci giocavo Ti ha raccontato? Sì Cazzo devo prendere dei negative Porca puttana No beh in teoria no Perché mega satano comunque non potrebbe comparire Ok no niente Ho detto una cazzata Monete Si è glitchato lo schermo Per un secondo Comunque sto guardando Questa serie che è fighissima Quale? Oddio come si chiama? Between Mi piace un sacco L'hai sentito? È di Netflix È di Netflix Sì ho capito Di cosa? Cosa vuoi sapere? Di genere Boh mistero Mistero Cioè in sostanza C'è questa cittadina Dove tutti quelli maggiori di 22 anni muoiono Viene messa sotto quarantena Tante altre care cose E I bambini devono capire che succede E i bambini che rimangono Devono capire A Che cosa succede B Devono sopravvivere C C'è un casino della madonna dentro Perché succede un po' di tutto E diciamo che l'unico che può scoprirlo In realtà è uno che è un mezzogenio Che deve andare via di là Tipo il giorno stesso E rimane là Proprio per Per forza di cose Quindi Non è male È abbastanza Non dico che Sì è un po' The Lost Style Cioè non sai che cazzo è successo Non riesci a capire Hai lasciato indietro una moneta Eh vabbè dai Siamo così fiscali Peccato che la run finirà qua Potevo prendere il negativo E farla continuare Però Insomma Sì ci potevo pensare Che c'era Denido Cioè ho pensato di più Che ci fosse una stanza Per abusare del Per abusare del Una sacrifice O qualcosa del genere Ti mancano solo le Tira spettrali Sì Per essere figo sì Sono abbastanza figo per te Lo so Vabbè ti mancano solo quelle Poi fai Proprio meno quel cazzo che ti pare Yes Ah ma va bene anche così Me l'amento La madonna quanti ragni ti stava sponando Sì Sì quella geggione Spawna tipo doppi poi Un casino Esatto Qua io non posso fare niente Cinque chiavi Te le darei anche Tanto lo so che non mi sponi un cazzo Quindi Oh no Non lui Già che rientra dalla stessa parte Non lo aspettavo dall'altro Non fa niente Qui poi non sta spawnando fuori Quindi mi sta mettendo in seria difficoltà Ok uno è andato A meno quello Di tutti i nemici rompipalle Che dovevano ideare Proprio uno che non puoi distruggere Eh vabbè Devono raggiungere qualcosa Di succoso al gioco Il problema è Se lo trovi nei primi piani Come succede Quello sì che è un problema Ma ti pare che mi esplodi in faccia Testa di minchia Ho trovato una stanza Con dentro Quattro mosche rosse E quattro giganti di quelli La stanza prima del primo oggetto Sì 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 capita Lerato Ah ci credo Terribile quella stanza E poi le mosche rosse Ti inseguono Ti inseguono anche gli altri Si fanno scudo a vicenda No No Penso che l'avevi messo abbastanza veloce Bella sta stanza Grazie Vai tu È tuo No Non so mica se c'è abbastanza cuori per Ah no Beh sì Per satana sì Se sei merda Vabbè È bellissima sta rama Eh non so Messo benissimo Non hai preso neanche il negativo Sì no a parte quello Quello è una deficienza mia Deficienza mia Sono un deficiente A parte che no Comunque non sarei potuto scendere Neanche col negativo Perché mi dà sempre la 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 coppa Quindi non mi dà la cesta Per poter entrare Quindi no Ho detto una cazzata Negativo Fino Cioè Massimo che poteva arrivare era qua A meno che qui non trovo una sacrifice Che ci faccio poco Perché non ho abbastanza cuori Comunque E a parte il fatto che Mi sciottano questi Giusto ci guardiamo un attimo Tutte le stanze Giusto ferma Perdiamo un po' di tempo Ma il tempo È sì denaro È sì punteggio Ma neanche troppo Insomma Basta Finito Ah sì Visitiamo pure quelle Tanto ormai ci stiamo Che fino a 8 Capevica Non so Ha detto Bo Entro Esco Vedo Ciao Esco Comparesciuto Si 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 è data la macchia Ma c'è Ma c'è Ma Apro La chat Di Twitch E se lo trovo Lì Eh vabbè Lì non ci posso fare niente Ok Vado Finito Ciao E abbiamo finito La daily Saremo arrivati Cerca due millesimi Duemila credo Milleotto Giù di lì Sto guardando uno che non so chi sia E io Perfetto Vediamo come siamo arrivati Oh 257esimi Attenzione Siamo il 257 al mondo Al momento Calcolando che i primi La bomba che hai mollato lì Ma sì è uguale La bomba non dà punteggio mi pare Scusa Perché mi hai dato tutte da fare Perché Perché mi ha resettato I salvataggi No aspetta 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 No aspetta 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 C'è qualcosa di Di malato in tutto questo No ok Io ho ancora i miei Hai più il file No stai scherzando Cioè mi ha cancellato il file dei salvataggi Quando? Come? Cioè fino a ieri ce l'avevo Come è possibile? Eh non lo so Quindi non hai neanche più i personaggi sbloccati? No Vai in qualche backup Roba simile Un ottimo Sì ho capito Sì ho capito Se non c'ho neanche No no io non ci sono Guardarmi C'è un casino Aspetta aspetta Perché io ho il salvataggio Quello dell'1.4 Delle due giorni fa O quello di ieri Alle due Quindi quello di ieri Alle due Eh quello di ieri Alle due No aspettate Devo provare a fare una cosa Perché c'è qualcosa Perché sto per uccidere qualcuno Non mi va per niente L'importante è che non uccidi me Perché effettivamente ha fatto un aggiornamento oggi Un aggiornamentino Sì a me non ha aggiornato nulla No cazzo no Ah no se l'ha fatto anche a me Non scherziamo Con i sentimenti Mi viene un colpo al cuore Se non ce l'hai più No ma non capisco Com'è possibile Ah Ti sto per uccidere la mamma Sappi Ma ma perché No vabbè ho cancellato Ho ripristinato un vecchio Il vecchio Però il problema è che non ho le challenge fatte In questo Non mi dire Ti prego Me le devo rifare No 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 Ok ok no no Non l'hai fatta Problematica No 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 Long Facile Le altre due non le hai finite No no ok Me ne mancano sempre due Però potrei non aver sbloccato In questa qui Potrei non aver sbloccato Il piano delirium Lì Come cazzo È facile Vai a vedere il tit di Juros Il Post it Di Judas Perché Aspetta no Perché Perché Tu hai battuto delirium Con Judas E quindi Non ho capito Non te lo mostrava tutto insanguinato Una volta che avevo battuto il tizio No Con la gridier Era con la gridier Perché in teoria La gridier Te la mostrava come Prima di Plus Mostrava la grid Sì no esatto Quindi In teoria Visto che hai battuto Comunque Tizio Con Judas Oh Sì aspetta Mi hai fatto In dubbio No Era con la Zero O no Era con Giuda Ah no Sì no no Me la dà Me la dà Ok Me la dà fatta Posso continuarla Mi sa di no Sì Ok Stavo pensando Se potevo Continuare La Una Challenge Non mi ricordavo No Mi conviene Prendere i cuori Se li trovo E allora Cazzo Ok Non è neanche male Quello di Minion Avercene Quale? Beh nessuno dei due In realtà Sia l'angelo Che Quello che Vive Respauna Sono abbastanza OP Ma Come ormai Sei dentro Con due account O uno sarà Un bot No Uno ha Perché Un microfono Nelle Corte Del Corte Ah Ah cazzo Scusa Ma se è amichevole Il brimstone Dovrebbe fargli danno Fino a prova contraria Dovrebbe funzionare così Ma scendi O cosa È un bel problema Aspetta che qua posso fare Mezza porcata Coggera Forse L'ho visto Ho capito Sono più scuri Porca puttana Sono più scuri Sono più scuri Di scrigni Trappola Ok Buono A Sapersi Ci ho messo un po' Ma l'ho capito Ah aspetta No 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 Però aspetta Forse è questo L'aggiornamento Che hanno fatto Che mi ha tenuto Sputtano Il salvataggio Però vabbè Non l'ha fatto Ma quindi è un bene No perché Aveva detto Che avrebbero fatto Gli aggiornamenti E uno era Sui portali Però non mi so Sembrati Cioè non mi sembra Di averne visti Meno di portali Forse al primo piano Sì Ti pare che ho Spanato l'unico Mignon Che non fa un cazzo Cioè Veramente Soprattutto Che non si muove No perché Quello che Quando gli vai vicino Spara Oggettivamente Uh Tu sei rompicazzo Tantissimo Non smetti Di sparare A me Demente Guarda Quanto è cacca cazzi Guardalo 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 È tantissimo Cacca cazzi Quello Poi sì Allorlo della tua parte È una mannata al cielo Eh lo so Peccato che One shot Cioè One kill Cioè Non ha Vita E cos'è Tipo uno di vita Sì Qualcosa del genere Poco di più Forse dieci Può resistere A qualche Qualche colpo Ma non di più Forse un paio Di colpi Oh Anche meno Ma è bello Che sta sparando Anche al resto Dei tuoi minion Sì 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 Beh è intelligente Questa è la cosa Che mi fa incazzare Quando Perdo minion Accoppie E non ci posso fare niente Questo fa tanti danni Mi pare Che fa danni Da cuore intero Però Quando muore Diventano Stili Suoi Esatto Parca puttana L'odio Eh Sta stanza Non la faccio Non riesco Se poi Vuoi spana Qualcun'altro Dovresti Passare L'immagine Una bomba Eh ma c'è Quello che Li scuda Ah Eh L'ho visto adesso No Perzo Eh ma Trovi stanze così Impossibile Senza Un danno decente Io Continuo a non vedere Danni Quando faccio Sta Sta cazzo Di challenge È imbarazzante Sta cosa Vero che non vedo Le item Però Cristo Cioè Ho visto persino I patti Non c'era un cazzo Neanche nei patti Non è possibile Cioè Devi avere culo Sei culo Vinci Basta A sto punto Mi tocca Rirolla Ma scusa Ma eri amico Come hai fatto a farmi danno Santo cielo È utile questo Non ci so Item Ma io Boh Veramente Non ho parole Cioè Trovassi caos Dici Minchia È svoltato Non so neanche se conviene Portarla avanti Sta run Perché È una perdita di tempo Dovrei Cercare una run Fattibile Per fare Sta Challenge E questa non lo è Eh dai No Meglio così Ripartiamo Vi prego Un aumento di danno Che sia Uno Decente Poi Guarda Se volete Non lo uso Neanche L'attiva Ma il primo capitolo Non sono i primi due piani In che senso In che senso Il primo capitolo Che in teoria La run è divisa Capitoli Ma Quale run Oh Di che stai a parlare Tutte le run Scusa Non hai mica fatto L'achievement Tipo Buzzman Boy E Valle varie Non lo so Dovrei Hai platinato il gioco Sì Eh L'ho fatto Che cazzo Se lo ricordo Per ottenere quelli Devi evitare Di prendere danni Per due piani No Quello anche Per sbloccare L'azza Eh Eh Sì Esatto Quanto meno Sponano più lenti Adesso I portali Non lo so Se sponano più lenti No Dai però Senti ma una cacca No Sei un genio Sì lo so Grazie So fare anche di peggio Se vuoi Perché è possibile Si Si vede che non mi conosci Oh Penso Un soldo T'ho un soldo Ecco Avere il doppio oggetto Dai boss è fondamentale Staram per esempio Dammi un nickel Ma il boss è là Questa mi puzza di stanza Lusso Extra lusso Che cosa? Che mi ha dato un Deca Addirittura Ma ti pare che mi sponi sta merda? Allora Dobbiamo prendere Per forza Questo There's option Potrebbe essere Una rana interessante Mi prendo questo Così mi sparmi pure Una bomba Al prossimo piano È bello che Come hai cambiato stanza Sei liberato Della catena Sì Un maledetto Il problema È che si comporta Come se fosse Legato alla catena Ah figa Prendere danno Così no però È anche diventato oscuro Perché è morto È perché si è liberato Scusa No questo Sponaragni No No Sponaragni Che saranno cattivi Oltretutto Cos'è quella roba Che tu sai? È tipo la testa Di quelli neri Sei un figlio di merda Però eh No non gli fa niente Ma perché non sta Sponando ragni Non capisco perché Si vede che è buggato Come tutte le cose Desta challenge Maledetta No in teoria Questo crea solo creep No Quando muore Allora crea ragni Vabbè Allora è tutta vita Proprio Perché io l'ho beccato Nel super secret Non mi ha mai sponato ragni Lasciava dietro solo Qualcosa schifoso Per fortuna Mi ha dato un cuore lui Almeno experimental treatment Ha un senso Vabbè Questo abbiamo Tutto un'altra Ok Abbiamo Ah era Era qua di fianco Veramente Un minimo di aumento Di danno Ce l'abbiamo Capirai Una mosca viola Cioè Proprio Tutta vita Viola? Sì Quelle che girano A minchi Ma hanno modificato Quell'item Perché? No Funziona solo Per questa challenge Così Funziona Che si attiva Top Minion Best Ever E ti ogni qualvolta Muore un minion Eh? Te viste E anche champion No In realtà È un'altra tipologia Questo se ti avvicini Troppo Ti schiaffeggio Sì Vabbè Capirai È morto È morto al primo colpo Di una mosca Quindi non è Proprio Il top Gamma Dei minion Eh Questo è il top gamma Dei minion Cos'è che vuoi? Stuprarmi? Mi dispiace Non ti darò Questa gioia Eh beh Quello non è male Scusa ma questi Non sono i cosi De Ash Così Suonava malissimo Sai Cosa? Lui parla di stupro Dici No Questo qui Sì lo so No infatti è uno dei migliori Come minion No io mi ricordo Quelli migliori Sono quelli che si appena O i tirani Quelli che si appena O il muro Perché non possono Quasi mai essere colpiti Eh se trovassi Quello Che fa brimstone Ciao Allora io ho bisogno Di entrare lì dentro Safem Mettiamo una bomba qua Una cacca Una cacca diarreosa Stopwatch Aspetta Maniera Va bene Aspetta Stopwatch Mi piace Wow Potrebbe essere La run giusta Per fare qualcosa Io qua Dovrei riuscire A fare Così Aumenta La run Aumenta Ha dato speed Ma veramente Ha dato 0,30 in più No sarà bugato Ho capito Che può essere tutto bugato Tutto bugato È estremamente Tutto bugato Sto gioco Da quando ho scoperto Che tutto è scrittabile Tutto è bugato Ed è tutta colpa di aero Tutta colpa di aero E tu che gli dai cordo Quanto veloce Tanto Ma che versione è Ma che versione è No versione normale No Ma aspettavo già Che le mosche fossero ostili No vabbè Dai Tutto bugato Guarda che succede Lascia fa Non lascia fottere Che succede Allora prendiamo Wirecut Tanger Noi dovremmo avere Tre cuori rossi E basta Cazzo Cazzo Non so se c'ho Cuori blu Uno in teoria Non so quanto ti convenga Beh si credi Mai shadow però No è Non è mai shadow È giù ed associato Però qui c'era Un cuore blu Vero Sì Ok Sì ma tra un po' Non capisco più un cazzo Tutti sti minion Non so quali sono i miei A chi devo sparare Sì No massimo due Ne spawna Ne spawna due E una volta che ne spawna due Inizia a Sparare pallina Sì no Io scappo dai miei minion C'è un problema Proprio di fondo Aspetta un po' Spara un po' qua Ma smetti di sputarmi Demente Basta Con queste bombe Cazzo Non capisco un cazzo Qual è il mio Nessuno è mio Basta Finiti i miei Manca solo spawna Io questi voglio Tu Tu voglio Perché Oltretutto Mi sa che non possono Capitare Quei minion Lì No ma quelli che fanno Brainstorm Sono Il top gamma Ma della vita Che cosa fa Ace of heart Che l'ho sbloccato L'altra volta Che io non lo so Dovrebbe aumentare La possibilità Di spawn Del Two of hearts Credo Ma è una È una carta È un trinket No È una carta Aspetta Aspetta Che vado a guardare Perché non Ehm Ah Veramente Trasformando I pick up Chest Nella stanza In cuori Per un attimo Ho creduto fosse utile Mi stavo preoccupando Sì Quando mai ti danno Qualcosa di utile Ecco Soprattutto quando mi danno Minion Che attaccano me Cioè Secondo te Fortuna che faccio Un danno Non dico decente Ma insomma C'è di peggio È bello che Sembra che puoi ucciderli I tuoi Già Il fuoco Già Cazzo Il fuoco Si 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 ma non Lo imparerò mai Sì Seriamente Beh 8 Già Qualcosa Nella stanza Nella stanza L Si Si bugga No è vero Nella stanza L Si bugga Anche qua Si bugga Perché non sa Qual è il nemico Da prendere in considerazione Che lui deve stare sempre Opposto A specchio A un nemico Ma che cazzo Stanza Ma che cazzo Oh dio Cosa si Welcome to the glitch E se c'è più di un nemico Si perché non sa Da quale iniziare Questo per esempio Si trasforma in due moschine Che sono nemiche Cioè Una simpatia No è morto Hanno ucciso Kenny Dice No Hanno ucciso Kenny Basta Ma basta Eh quello è un grande Questo è un grande Non mi morire Sei un figlio di puttono Altrimenti sono su quattro lati Era quello figo No La tronco Non così No Benvenuti nel mio dolore La peggione morte Del Che cosa cazzo sei tu Ma chi è il mob Ma chi sono i cazzini Si Cioè Capisci che non Non è cosa Ti faccio notare Che c'è la poca ball carica No ma sono avanti Comunque Non riesci a Eh si lo so Ma ce l'hai sempre carica Insomma Già Faccio fatica così No Mi ricordate che cosa fa in Caves 2 La Pandora Ora Caves 2 No Così poco 20 monete in teoria Utile come niente Non è utile Scherzavo Ne spendi 7 Ne spendi 7 per avere altre Cos'è 13 Ne da 20 Sì appunto Ma ti pare Ma che oggetti Ma che qualcosa Cioè Veramente Perché Morire Oh questo è bello Questo è bello Quello nero Sì Mamma che casino Fa male agli occhi Sta roba E mi ha dato anche Un HP up Crack jack Che mi ha dato Anche Un Fungo Che prenderò Mi sembra poco Due spirit Non è che sei in Caves 2 Sì Ha detto Caves 2 Sì Affluent Caves 2 Ma vaffanculo Vabbè Meglio rallentato Che niente Ho Buggato Sì Lo zombie Non so C'era un po' A un certo punto Che non Che non pigliava danno Non Non faceva più un cazzo No Sta run è terribile È la cosa più Buggata Che abbia mai visto Sta run No vabbè Barazzante No quello no Quello non prende danni Ok Di cosa Eh c'era Quello che non prendeva danni In una stanza Stava a sparare a lui Quindi Ah qui io Vado subito al boss E poi scendo Brownie Ciao Figlio di merda In tutti i sensi No no Bello che L'ho ciarmato Quindi spona le cacche E le uccide Bravo Sei il meglio Stavolta prendo placenta E stavolta vinco la lamma E mi salto il cazzo A costo di sta qui Un'ora e mezza A aspettare Che placenta Mi ricarica i cuori Ve lo dico Non siete avvertiti Se volete Mi spegnete Ciao Ma no Tanto io non ho nulla da fare Quindi E poi ce l'ho anch'io C'ho sia dolce Che salato Quindi sono a posto Vedi voi Io ho le mani impegnate E no Non per Fare quello che pensate No purtroppo Isaac Gli occupa Tutte e due le mani Tutte e quattro Da DHL Guarda se ne avessi quattro Potrei fare entrambe le cose Vabbè Che cosa stai facendo Alza le altre due mani Quali mani Tutte e quattro Aspetta C'è che cosa Non mi interessa Ma rispaunato Qua cosa blu inutile Ma perché Ma che t'ho fatto Che bello che sapevo Che qua non c'era Un cavolo Incredibile La cosa blu inutile Ha fatto qualcosa di utile Attenzione Ma spara Sì spara 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 solo se Se qualcuno gli si avvicina Quindi non ho ben capito L'utilità Però Lì dov'è Poteva No non ci credo Questo mi fa danno Col creep No vabbè Tutto baggato Poi dici che non è baggato Non lo posso uccidere No in ogni stanza che entro Mi fa danno Simpatia E non muore Perché questo Ah è morto No No perché Non prende danno Davanti Capito Quindi E' difficile che moriva L'ha preso Infatti l'ha preso Rocco lì L'ha fatto il suo Eh l'angelo L'angelo È stato La cosa più veloce Ma come è molto Che finisce Con la mosca Probabilmente Guarda che la mosca Non è imparata Eh io qua faccio Grossa fatica Io non spawno più Un cazzo Qua Perché se no Mi confondo Casino Oh ok Si è rallentata Almeno Guarda la proprietà Come spara Eh T'hai vista Guarda che DPS Guarda Mamma mia Ci si finiscono Le run Con quel danno Eh non so Che cosa Prende lui Tanto Cambia niente Credo Devi andare Da Isaac Si ma mi ci porto Uguale Cioè ci posso Andare lo stesso Da Isaac Basta che Prendo il portale Giusto E sarà uno solo Il portale Io lo so Ma è una challenge Sì 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 perché In realtà Non funziona così Il pokeball Ti apri Grazie No sta challenge È terribile Non è Non malissimo È terribile No Non è malissimo Secondo me è più Dilanciato di quello Che adesso Adesso lo serve Obiettivamente Uh Passaggio Ma ha sbaglio O il minion Ti ha spawnato Un altro minion Sì sì Può farlo Fino a due minion Li può spawnare Io il piano Me lo Assolutamente Non ti fanno danno Col creep Mi ha spawnati 3 di minion Ah 3 Allora 1 mi farà danno No Ok Ah così L'hai saltato Sì sì Scusa Non c'è la possibilità Tu pensi che ti apri O siamo qui Fino a domani pomeriggio Domani pomeriggio Ha detto tu che lo vuoi finire 300 anni Un attimo Un attimo mi sono perso Bravo Ti sei suicidato Sei un coglione Cazzo Steven Tutta la vita Steven Tutta la vita Ma tutte stanze uguali Che è successo? Uh Strength può essere la mia salvezza E quindi Aia 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 Zio? Hello? C'è qualcuno? Eh Io sono presente Ti è morto No cazzo Non l'ho visto Questa è colpa mia Bello Tu sì che sei utile No scherzo No scherzo Io veramente Non so Sì ma questo è veramente assurdo Se si deve trasportare Dammi un minion Serio Niente Oddio L'argomento fosse mia Non fosse mia Vabbè Sto cagato sotto Sopra Un ragno esplosivo Che cazzo Di cos'è successo Willis E' bellissimo Sciarmare I cosi Che frustano Puoi per favore Spawnare robe Uno Questa è Non ha Puoi spannare Le robe Non ho capito Non ho mai capito Il senso di quelli rossi Normali Eh fanno danno a terra Come gli altri No si fanno danno da contatto E basta Non è che se ci vuoi vicino Ti schiaffeggia Beh io sono riuscito A prendere lo danno Perché ci sei Ci sei andato addosso In una Grid Quello lì che corre in giro Per la mappa È Tra portali Un occhio Mannaggia C'avevo l'occhio Che faceva Brinston Eh ma mi durano un cazzo Con lui Perché Non so Non prende danno da contatto Sembra Mamma mia Il minion Brinston Ha fatto il suo Ma non prenderanno Mentre dentro gli affini Lo prenderanno Fuscigliere Ma che è Cazzo Meglio così Fa tutto l'uso Spauda Fa danno Fa tutto l'uso Questo mi dà due cuori blu vero Sì Ok E un leggero aumento di danno Beh ecco Magari evitiamo di andare da Ashe Giusto per Forse quello non è il caso Sì Curse of the blind Sì Tutte e due Sì Per parte ne andava due Ci rimanco uno solo Ah no Sì No Sì Mamma mia Sì L'ultimo piano Hai una bella comitiva No ma c'è Il coso qui Che se non prende danno Eeeh Sì no Questo è Il miglior Il minion del tempo Che poi Mi uccide tutti i portali Sì Guarda lo come Cazzo Guarda lo Come corrigio Spauda cose Ha spaudato 5 Comunque 5 Le cose Che fai di Le larve Lì Forse mi si è svegliato Il poco Forse Eh Stiamo facendo un pochino Di casino No ma No è un'altra stanza In teoria No Monstro Ti uccido la mamma Mi ha ucciso tutti i minion Con un colpo solo Il mio compagno di merenda Ma vaffanculo Si ma non spawna i ragni Purtroppo Se li avesse spawnati Sarebbero stati ostili Si Tutto pacchetto Tutto pacchetto Beh Il lancialarve Il lancialarve Che lo sposta E non fa danno Anche a me sembra E no Ma l'unico che non muore E' la torretta lì eh Si non prende danno Sta ferma lì Affancazzo Non è che Dove ho preso danno Adesso probabilmente Moria la cosa Se mi fa il laser Dall'alto Ah come si Va bene Da una delle lacrime Ti sa che hai preso danno Si Non ne so Ma pareva di sì Vabbè ma quella Quella mosca Ha più Che ha Oh Guarda ci passano in fianco Il laser Riuscirò a ucciderlo Isaac Prima o poi Ma lei non lo spawner Che hai creato Si utile Più che altro Che poi non muore Quanto meno non muore Oh è morto Oh è morto Yahì Finita Charged key Sono curiosa di sapere Se quello spawner Lì bianco Spona ragno stile o meno Non lo so Non ci è mai arrivato Poverino No peccato Manca solo La run Quella impossibile Manca solo ultrard Che non è fattibile Umanamente Credo No perché oltre all'hard È scriptata Per non darti fuori Sì oltretutto Ah sì 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 Sono solo mostri campione Non ti dà fuori Di nessun tipo E quindi sei fottuto Cioè o trovi oggetti Che ti ricaricano anche la vita O è un casino Cioè se tipo trovi Non so No ma book of revelation Piuttosto che E un bel boost Tipo prendi Trovi che ne so Sucked Piuttosto che The battery Dovresti riuscire a farla Come l'ho fatto io Con la di oggi Tipo? Satanic Bibble Cioè Bibbia satanica Sucked E la K di Di Satana Eh lo so La K di Satana L'ho trovata una volta sola E non so Esattamente come Come sinergizza Con il resto Come l'ho usata io Sinergizza piuttosto bene Sì Boh non lo so Boh Boh La Bibbia satanica Al posto che darmi Un cuore nero Me ne dava due Eh quello è tanta roba Le ricariche E me ne dava due Io sono arrivata tipo Da mamma Che non mi preoccupavo più Dei cuori Non funzionava Allian in Greeder Vero? Immagino di no 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 funziona Funziona No non funziona Ma in che penso funziona No ho provato No vabbè Questa rana La restarto Ho provato A vedere Ah quello Non lo so Se c'erano oggetti attivi Su Se li prendeva tutti No Poi parte con niente Questo mi fa Incazzato Sto personaggio E con questo Dove riuscire a fare La Greeder Sì Cioè non No no se non trovo Un oggetto danno Al primo Cosa ho perso Ecco già Già è meglio Non tanto Oh cazzo Che c'è sta roba Qualcuno mi spolerizzi Che cosa Sono sti due Trinket Uno è Muco verde E l'altro Sembra un osso Il muco verde È fighissimo Sì Il muco verde C'è presente Perché è il muco Di goblin Eh Le tue tira Hanno una possibilità Di attaccarsi E fanno Fanno Danno da veleno Finché non muoiono O per 60 secondi E il Il danno Da veleno È uguale All'autotear Ogni tic Ok E l'altra Che era L'osso Quello Circolare Che sembra Una versione strana Di Moth of the void No Sembra Colosso Non so che esso sia Ah quello del pollo Tipo sì Ogni volta che prendi danno Hai una piccolissima Possibilità Di spawnare Ma certo Ma mi sono spawnati I portali Certo Cosa? Mi sono spawnati I portali In una In una Non so Io No 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 Non era fattibile Oggettivamente Poi parte Quello che mi fa incazzare È che parte senza niente E non ho possibilità Di aprire La doppia item Prima Wow Che La figa No Faccio prima Guardare qua Poi decido Se va ad andare avanti No Ecco No Poi c'è solo un oggetto Interessante Mi pare In questa stanza Che non è questo Beh Poteva dare una carta Interessante Quello però Questo è speedball Non ci faccio niente Ti do una carta Santo dio Sì Pentagram Ciao C'è una chiave di sconto Che però Per arrivare a tre Monete Servono Non so quante run Cioè Non so quante ondate Tante però Teoria a tre Eh sì Teoria a cazzo E c'è anche il DJ Il DJ In vero Vai a fare in culo No Ecco Magari morire Prima di Eh no Una volta che trovo Ti do una moneta Sono tre run Sì Sì Tre run Come ho detto Però sta per Morire Eh no Non sopravvivo mica Speravo mi desse Qualcosa più interessante Anche perché Adesso ho tipo Otto run Otto Cioè Capisci Altrutto sono anche Difficili come ondate Sti maledetti No ma poi Ti spuono Un portale Perso Ecco appunto Mazza L'ho chiamato Cosa ci era In quel portale Altri Altri due portali Ma c'hanno meno HP I portali credo Però Le hanno diminuiti Forse c'era ragione Che avrebbero fatto Sta cosa Ha detto Che avrebbe diminuito Di HP Dei portali Anche Beh dai Non erano fattibili Hanno diminuito Si è fatta Tana Sì Stai iniziando A laggarmi un po' Il cervello Come al solito Vagga Sto dicendo Che hanno diminuito I portali Solo nel Nel primo capitolo Rideglielo Oh Che danno di merda Ho preso Cioè A fine delle ondate Ho preso Danno di merda Ok Uccidetemi La mamma No Mamma mia Ti prego Altra Hortalo No Veramente È veramente Scandaloso Guarda Ma qui si riesce A rompere La run Ci sono talmente Poche monete Che dubito Però vedo Una carta rossa Che prenderò Sì Eh lo so Che c'è Tanto non ci arrivo A prenderla Non ci arrivo Perché Devo stopparla A tutti i costi Perché stopparla Perché hanno spawnato Quelli indistruttibili Che mi devo portare Dietro per otto Turni Ah ecco No Fin che c'è nemici In campo Loro restano No i portali No i portali No Io faccio anche Le magie Però figa Ho fatto una giocata Da pro player Per non prender danno Però Ma che bello Il mini monstro È un amore Poi prendo danno A cazzo Però Voglio un peluche Monstro Vaffanculo tuo E tuo farzo Almeno trovassi Delle attive Dici vabbè Le consumi Le attive Le accumuli Però non ho capito Cioè le attive Ok mi sta bene Vaffanculo Mi sta bene Che Me le attivo Quando attivo l'oggetto Me le attivi tutte Ma Per le passive Cioè Se una passiva Mi dava Leggermente danno Ogni volta che lo attivo Mi dà Un aumento Leggermente di danno Secondo me no Che se no Converrebbe Consumare tutto Sì Ma visto che Sta stanza È unica Vabbè Poi dopo Poi si Che funzioni Per esempio Questa è Scatola Allora Void Se una passiva Viene consumata Guadagni Una piccolo Startup In una random In una Qualsiasi random Sì In una statistica È ok Sei un'attiva Da una passiva Non c'è una passiva Allora vedi che Non ho ragione Ma solo per la stanza In cui lo usi O te lo usi Ma fisso In teoria È fisso Sì È un mulligan Non ci posso fare Niente Non c'è proprio Un cazzo Devo combattere I boss Così Tanto vero Ah certo I boss Pagano Però Dare Void Nella Boss Rush O in una Challenge Room Conta come prendere L'oggetto E fare lo start Ok Mi sta bene Ma me li consumo tutti e quattro Vero Sì In quel caso Sono morto Va bene È una figa Non c'è possibilità Di fare niente Però Non funziona Non ho capito Ho consumato Le mutande Invece di darmi range Ma ha abbassato Mi ha abbassato il range E mi ha aumentato Lo speed up È casuale È casuale Che lo start È più da No A me sembra fisso Non lo ho detto È due volte che mi dà lo stesso No Qua è cambiato Ok È come di aula Di Qui è elo E mi tocca prenderlo Vaffanculo Oh qui dice random Non Sì sì No è random Tra l'altro Void non funziona Su oggetti Che non hai comprato O che non hai preso Col patto E non hai già pagato Insomma Sì sì Funziona solo sui piedistalli Quello l'ho già detto io La prima volta che l'ho usato Credo Sarà solo sui piedistalli Tant'è che era una delle prime cose Che ho provato a fare A usarlo in uno shop Dice che è un po' esagerato Ma crederci non fa mai male No no Infatti io ci credevo fortissimo Però Non è Non abbastanza forte Per farlo accadere sul serio Eh già Io se detesto Sti cavolo di ragni Che spawnano gli spawner Spawner di spawner Sopraccera un champion Spawner di spawner Sì ma quello sta bene lì Tanto quello ha paura di se stesso Sta bene lì Lo faccio per ultimo Sì ma gli spawner Ho visto che non è che Spawnino poi così tanti ragni Voglio spawner in minecraft Sì Tipo Che devi fa? Mi vuoi baciare fortissimo? Fallo What? Eh no un tizio Eh vabbè Eh vabbè Corretemi tutti incontro allora Abbracciatemi fortissimo Eee Abbraccio di gruppo Ma comunque La gridier È veramente Una delle cose più impestate Che ti possano capitare Nella vita La grid La grid È una cosa È una cosa facile La grid Una volta che la conoscevi Sì Però qua è un'esagerata Secondo Perché Cioè Non sono mai riuscita A fare la grid Con Azazel Cioè dai Banale Ho fatta la prima volta La gridier Beh sì Soprattutto se trovi qualcosa Che fa danno E Noddly Volando su una speed Abbastanza alta E Di posti Come cazzo chiamano Prima di sto Pinto Di poveri Lui Come si accorre sto Ho consumato La chiave di papà Eh È quella che apre Tutte le porte Ho avuto Beh Mi si blocca La ipo No Io non so mica Se voglio scendere Secondo me sì Dai Il pad Da più È così Inizio Secondo me scendo HP up Non c'è qualcosa Per cui vale la pena Vivere Absolutely not Però c'è un cuore Intero Quindi Bombe Bombe che dicono Bombe Eh C'era il cuore Quello Nuovo Sì L'abbiamo visto anche prima C'è una chiave Eh sì sì No tu non c'eri Ah ok Quello se c'hai un Mi dite che cos'è Questo oggetto Sembra un Secondo Non lo so Non lo vedo Un ferro del nove Sembra sia una mazzata Beh Bombe Dai Gol Azzurro e bianco? No A Napoli Grigio Sulla fascia Sulla fascia Sulla fascia Crossa Crossa Al tiro Al tiro La rete Quindi che fa? Provato Provato La possibilità Quanto alta? Non c'è Sulla E se succede Lo stunni per un po' A occhio mi sembra che non succeda Ve lo dico Probabile Io Io Ambasciatore Non può sapere Dico quello che c'è Sì Ecco grazie Cosa? Così Non è colpa nostra se non fanno quel che c'è scritto sulla wiki No magari sì ma c'è una possibilità tipo infima per due E' un po' tipo la Ma scopri infami No Infami Infami sì Sì ma infami la possibilità è anche bella alta Però deve iniziare a farlo Perché se ti va male Io non so se ne esco No pure lo spawner No No vabbè figa Eh Ha finito una run E sono iniziate altre due Eh Run No vabbè run qua Parlare di run Su Oh Amore mio Cos'è? Caos Amore mio Gappi Comunque i pantaloncini sono la cosa più utile che hanno inserito Oddio No vabbè No vabbè No vabbè Le cose sono p No vabbè No no non è per quello E cosa? Eh guarda Cosa è il promoggiato di gappi Così A gratis No non mi preoccupa il primo oggetto di gappi Mi preoccupa Riuscire a prendere caos Che mi ci fa diventare gappi Ma col fatto che in realtà Gli item ne sono troppo Penso che qui In realtà Gattivamente pochi Sì però Le possibilità di rirollarli E comprare almeno uno Ma che sia quello È abbastanza alta Vabbè che si è in caos ormai Nello shop Che ho visto di brinstone Non ho mai trovato un brinstone Nello shop Giorno Vabbè no Non so neanche se può capire Forse sì Non lo so se può capitare brinstone Nello shop Neanche con caos Ah sì Mi è capitato Sì 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 Può capitare Mi è capitato in un era normale però Ed ero con keeper È una delle volte in cui sono riuscito a sbloccare Le parti del post it di keeper Ho trovato caos E poi brinstone in uno shop L'altra volta ho trovato brinstone Come drop di the fall land Sempre con keeper Sì vabbè ma sai quante l'hanno fatto Tua idea Di quante ne ho restartate Sì tante Eh Io mi giro il cazzo dopo la teaca Allora qui non riusciamo a prendere oggetti Quindi caos ancora niente Vi aspetterò anche per prendere la chiave Perché preferisco prendere caos Prima di prendere la chiave In realtà Eh beh Ecco il boss Ti arriva sì ma Sai Non si sa mai E' un cazzo di casino Non son convento E' un cazzo di casino Non sbaglio Lo sponde Delle monete Delle cost E' più alto Queste mani Casuali Ma prima me ne ha date un botto Perché la prima te ha dato 4 Mentre prima Il primo boss Me ne ha dato 7 Tipo 6-7 Non mi ricordo Quanto me ne ha dato Un botto comunque Oh ma morire No perché mi hai caccato il cazzo Prima di iniziare Il boss Ma tutto se scoppio il cuore nero Muoiono tutti Può essere Mi ha dato 10 monete Però Cioè Mi ha dato 4 Il primo E 6 Seconde Stim sales Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Con i cinque di mine che è lì così Che mi guarda Che ti guarda esatto Vabbè ti prendo Non so se farlo Non so se farlo all'ultima ondata C'ho un po' di dubbi Beh comunque 9 lights Eh ok vedi Vabbè dai Fattibile Oh no aspetta no 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 ho sentito qualcosa Il duca Ok vabbè l'HP non ne ha molti Ok tu Sì sì vabbè Come doppio boss sì Ho visto di molto peggio con la gridier Il fatto che uno non spada Non fa niente Tanto ha poca vita Il problema è che adesso il patto è inutile capito Per questo era Lo prendo giusto se c'è qualcosa che ha un cuore Me ne da due Tipo se trovo Tipo se trovo Roliver Quanto qua non funziona Infatti Va bene Vediamo se con Il nostro potere di un steam sale Potrei trovare un altro steam sale Per esempio Sì vabbè Poi hai anche un restock No non serve È automatico restock Qua Allora Allora Roliver c'è effettivamente Me lo son chiamato Eh in realtà una posso farne Cioè una doppia Dietro ha un cuore rosso Sì che se ne va Però si Ah perché Non lascia Che Niente 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 Allora Non sono solo io Che raggo ogni tanto Di testa Ma cosa sta succedendo Perché stava andando Se non è il cuore Non lo so Ma è già successo Però I cuori che scappano No no Succede spesso Lo devi mettere all'angolo Per poterlo prendere Ma Quello in fondo a destra È l'item Quello del Del patto con l'angelo È lo scudo Quello bianco Infatti era in dubbio Se prende subito Roliver o quello Vediamo un attimo Qua che c'è Ecco Per esempio La capacità di volo Un bel lord of the pit A caso Ma che ne è comunque Una di Vabbè Di che? Ne avevi una Di Piave Ah Eh vabbè No vabbè Però adesso Ne ho anche un'altra Quindi Non so Non so se prendere Roliver Ma sì Dai prendiamo Roliver Gappi Ok Il prossimo Sarà un pezzo Di gappi No Il problema è che Non ho neanche Consumato un cazzo Quindi è proprio Inutile Sto oggetto Un momento Eh ma Se trovo delle attive Sì ma se non le trovo Ci posso fare Buono Grande Grande cuore nero Salva Tutti All'ottava All'ottava Andata Visto che c'erano Due spawner Me li ha segati Via subito Ok Quindi stavolta Prendiamo un pezzo Di gappi La prossima Non lo so Facciamo due terzi Siamo a due terzi Gappi Non hai preso L'iter della stanza In basso a destra Sì Hai fatto caso Non era Cube of Meat Ma Ecco lì Per esempio Se li consumo Li consumo Tutti e due Sì Non ho nessuno Dei due Però Dovrei avere Delle stats up In teoria Io qua ci muoio Lo dico Ma il robot Gliccioso che c'era Non fa danno Ma che Sì Non fa danno Sì Poco Tra zero E presso Che zero In cerca Mette degli status Ogni tanto Cambia gli oggetti A terra Quindi potrebbero Non esserci più monete Ma altre robe Forse Sì Non so quanto sia Una buona cosa Con la Gritier Eh non so Però Devo prendere danni Per la Nel cazzo Un po' mi scoccia Capito Questo è il problema Troppo Infatti morirò Purtroppo A meno che non riesco E l'altro E l'altro in teoria C'è molto vicino Se riuscissi a superare Lo sbarramento Di sti cazzi Di cosi che sparano I boss Sono andati Mamma mia Allora Posso permettermi Allora Io qua potrei Effettivamente Usare Potrei prendere Un cuore Vaffanculo Potrei prendere Cube of Meat Ma Giusto se Trovo un'altra Volta Nodleaf Però Finire tutte le run Nello stesso modo Senti Io li consumo Tutti e due E vedo che succede Assolutamente niente Mi ha aumentato Leggerissimamente Rata di fuoco E basta Poi Qui che prendiamo Seraphine Potremmo anche Non prendere niente E vedere che cosa c'è Nella prossima Cosa che probabilmente Farò Senza Fare patto Aspetta Dimmi che c'è una bomba Nope Cazzo Mi spiace Però scenderò Tanto non mi interessano I patti I patti Ne sono diventati Inutili Quindi Preferisco vedere Che cosa c'è Cosa ci offre In queste stanze Gappi Aspetta Non solo Lo consumiamo anche Perché è l'attiva Di Gappi Beh non facevi Prima prenderlo O l'hai preso No L'ho preso Sono diventato Gappi E poi lo consumo Dopo lo consumo Anche Monster Manual Consumerò Però non c'ho abbastanza cariche Per fatta sta roba Aspetta un attimo Spears of Destiny Ma in effetti Non hai abbastanza cosa Sì che non è male Perché rallenta In Chancer In realtà In Chancer Lo prenderò Perché mi piace E Multidimensional Essendo Gappi Eh sì Eh sì Vediamo se con Gappi Riesco quantomeno A sopravvivere Perché mi hai detto Perché c'ho comunque Tre e mezzo De danno Eh Eh Comunque Le parpade Eh le moschine Che fanno sette Ma non è che fanno Tutto sto danno Fanno sette Beh sette Su un tuo danno Di 3.5 No sette danni In totale Eh sì Cioè rispetto Al mio danno Sì è tanto Ma vai a fare in culo Tu Tua mamma E quella gran Puttana di tua sorella Non ti conviene Stoppare Quando hai Le sei Vaffanculo Me ne fremo Cazzo Non ci faccio niente Con Monster Marmon Sta bene Do sta Ah beh però Devo consumare anche i gappi Effettivamente E allora sì Vabbè No sti cazzi Lo carico alla fine Tanto Ormai Posso prendere ancora due oggetti Un HP up Ma Spears of Destiny Non so se scala con gappi Però comunque danno da contatto Gothead Sai Non è proprio Una merda Lagrime penetrative A ricerca Sì è vero Strano che è diventato Serafino Adesso ci penso E in effetti De San me riempie i cuori Quindi lo farò Per il Serafino Non viene Vengono Viene contato Nella spada Nell'Incensor Nell'Incensor Certo Perché contare Gli oggetti Del patto con l'angelo E ce ne sono pure pochi Considera Halo Rosario Olimental Ho preso Olimental Sì Vabbè Ah ma Perché c'era il patto con l'angelo Ah Vero Come si può si crea L'ominion angelici La bibbia E il L'ultimo Non so Non so che cacchio sia Fatto come? Dead dove Eh? Dead dove? È nuovo? Sì È quella che ti dà il volo E le lacrime spettrali Angelica però Sì È della parte angelica Gappi Così a casa Il D6 Il D6 Io faccio D6 E reroll Void Vaffanculo Vabbè sì Quello in effetti Ormai non No aspetta Consumo Il D6 Beh così però Mi sa che hai un item in meno Eh? Così hai un item in meno Però Perché se rerolli Il void Almeno hai l'item In cui il void Si tassorba Che è Gappi Vabbè Però tu Ho cinque pezzi di Gappi E il Gappi Plus Classico Sì Peccato che non si può trasformare in Super Gappi Ho sempre detto che era una trasformazione che andava fatta Super Gappi Non so neanche se giocarmi tutte le I cuori Con la zampa Se la giveressi a 6 9 9 Non so un po' Cube of Meat Perfetto Manca solo un Nodleaf Un Nodleaf Abbiamo vinta la partita Cioè proprio vinta Nel senso Non puoi perdere A meno che non sei un demente E no Quello che dicevo io Da dove È di Rebirth E che cos'è scusa Com'è fatto lo sprite? La statuina dell'angelo Ah sì Non è nuova No È di Rebirth Non l'ho mai sentita Non penso di averla mai vista No Sì sì L'hai vista sicuramente Garantisce volo e Tra il tier È trovabile solo nella Angel Room No sì Per carità ci credo Ma No Sì no Siccome Se la vedi Te ne accogli subito Dovevi fare Ok Sembra una di quelle bomboline Che c'hanno sotto La palla Per rimanere sempre in piedi Con le ali Ok Questo Non me lo immaginavo neanche Per modo di impiegare Con le ali Sì in realtà è una colomba È una colomba Ah sì No ho capito Sì 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 È vero Hai detto colomba Ho capito che era effettivamente Una colomba Quindi ho capito Qual è il loro oggetto Che caglio Ma non sembra una colomba È una colomba È una colomba Dolse è una colomba Chi se lo ricorda Il mio è un pessimo inglese Ancora non sei morta C'ho veramente così poco danno Beh effettivamente Ho solo 4 di danno Krampus Rotten baby No Tanto Sono già gappi Non è che No poteva capitare Krampus No ma da Rotten baby Ma non ci faccio niente Con Rotten baby Sono già gappi Sono gappi Eh sono gappi Sono gappi HP up Mi sa che so Ho finito qualche Questo era un altro oggetto di gappi Ma ho finito il pollo Ma ho finito il pollo Mi sa Eh sì Eh tu Ma tre È l'unico punto che è finita Sì Là ce n'erano altri due Perché anche qua Mi da Allo shop Mi da due Forse ho finito Forse ho finito gli oggetti angelici Ah beh No c'è di elo Ah ok giusto Almeno uno Beh quantomeno puoi avere tanti HP Continua Continua a vedere breakfast A questo punto li prendo Seggdegger è buono The soul Prendo anche Grotormounds Vaffanculo Ammazza L'ha dato più 1.40 Grotormounds Questi li odio Chi era? Chi è? Ma vaffanculo Proprio loro Possono sparare da parte a parte Della mappa Imbarazzante sta cosa Cioè quel nemico Che può sparare Da una parte all'altra Della mappa Non viene comunque rallentato Perché non spara lacrime Cioè Sei un figlio di puttana Sostanzialmente In amicizia Il risultato di tutta quella Comunque Spirit of Destiny Fa un danno Della madonna Non ho mai capito Con cosa scala Se scala con il danno effettivo Non penso perché Tutta è abbastanza Portata Altre cose interessanti No Bristam ancora Non l'ho visto Inizia a fare Un bel po' di danni Ma più che altro C'ho Godhead Che è un moltiplicatore Se non mi sbaglio Non so se è Un e mezzo Non mi ricordo Ma sa La stessa identica Che cosa di prima PhD Che cosa mi può aiutare Con un No niente Ma adesso Con un bel po' di danni Li ho preso Ma Che non rimane Sotto quello Aspettate Eh Eh Si è svegliato Eh si era svegliato Ma mi sta dando A mangiare Mia mogna Si è svegliato Prima del solito Che è rimasto Ma non vedevo i mob Perché c'hai una cesta Perché è il Gritch Baby E' una cassa Per una moneta Questo è l'oggetto Che diceva Appena Appena La carta del demonio Piegata Sì Non mi ricordo Che va E' quella che ti Aspetta Sotto Sotto qua Allora Ti do Una Carta O Una Raddoppia L'uso Di Fa double active Credo Qualcosa del genere Sì Raddoppia L'uso Della Tarta Che E Però Abbastanza E Alcune cose Non funziona Tipo Per il dado Sicuro No Non funziona Tipo Per Destarte Con Tire Trasporta Due volte Ah Vabbè Si sarebbe Non dire Chi manca Lei potrei andarmi Sì Assolutamente Ci proviamo La vedo dura Vabbè Abbiamo felice Che hai Un po' Da donare Sì Vabbè Cambia poco Tanto Tutto sbloccato In realtà La macchina È sempre la stessa Sì 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 Ti resettano A parte Che lui Non ha mai Donato Sto personaggio Quindi Mi sbaglio Mi sbaglio Assicura Un po' Un po' Troppo Eh 3 su 3 Dove vai mi sembra facile allora curati che cazzo devo dirti a sto punto ancora se si è grecciato l'audio di sto boss io nemmeno qui è un cazzo di casino perchè dici che ti hai grecciato? perchè faceva i rumori sbagliati è tutto buggato tutto quanto tutto tutto no qui è proprio così purtroppo non è buggato esplode tutto fu un casino esplosioni poi non si sa quanto si esatto non si sa esattamente che range poi anche le monete normali esplodono c'è anche quelle che spara normalmente esplodono e dai e basta e che cazzo mamma mia l'ho evitato all'ultimo ah quello fa aprire le porte ok no lì non c'era arrivato certo ma se sei immune all'esplosione hai vinto questo boss fa solo danno all'esplosione mamma mia ahah ben culato the black rune abbiamo anche donato un po' vabbè che era una run abbastanza OP eh però no ma basta trovare no ma basta trovare caos cioè si comunque si basta essere immune all'esplosione trovi quindi uno stat a caso hai vinto contro il grid abbiamo donato un sacco oltre tutto 74 monete va bene va bene ma c'è un finale diverso no? sempre uguale fa tutto se ti devo fare proprio no uguale no identico identico ma ride e si chiude no no non è uguale mi si stacca la testa mi si stacca la testa ma cosa what mi mancava questo va bene ragazzi vi do la buonanotte una abbiamo finito la la daily con successo abbiamo finito con successo la challenge che mi faceva smadonnare l'altra volta e abbiamo finito con successo una gridier con il personaggio nuovo quindi sono abbastanza soddisfatto dai io su successo non lo conosco eh? io su successo non lo conosco eh surcesso surcesso è tutto surcesso è successo va bene buonanotte ragazzi saluto anche alla live per chi la vedrà in ritardo o youtube per chi lo vedrà caricato su youtube ciao a tutti buonanotte ciao ciao